Dovete adunque sapere come sono due generazioni di combattere, l'uno con le leggi, l'altro con la forza. Quel primo è proprio dello uomo, quel secondo è delle bestie, ma perché il primo molte volte non basta, conviene ricorrere al secondo. Pertanto a uno principe è necessario sapere usare bene la bestia e l'uomo. Questa parte è stata insegnata ai principi copertamente dagli antichi scrittori, gli quali scrivono come Achille e molti altri di quelli principi antichi furono dati a nutrire a Chirone Centauro, che sotto la sua disciplina li custodissi. Il che non vuole dire altro avere per precettore uno mezzo bestia e mezzo uomo, se non che bisogna a uno principe sapere usare l'una e l'altra natura, e l'una senza l'altra non è durabile. Ecco, questo è un passo famosissimo del diciottesimo capitolo, forse del capitolo più importante, più famoso e più drammatico, ovvero del principe, il capitolo in cui Machiavelli sostiene, facendo crollare uno dei fondamenti dell'edificio gius naturalistico della politica delle leggi che talvolta è necessario non mantenere la parola data. Cuomo do fides, a principi, bus sit, servanda. Questo cuomo significa che talvolta sì e talvolta no. Ecco, ora in questo passo che, come dire, allegorizza in qualche modo il problema politico centrale. Ecco, Machiavelli, che ha sullo sfondo alcuni testi di riferimento, il più noto dei quali è Cicerone, De Officis Cicerone, distingue questi due modi di combattere, uno con la forza, uno con le leggi, uno che è proprio delle bestie, l'altro che è proprio dell'uomo, e poi però compone, per così dire, il quadro complessivo del politico accorto, facendo in modo che egli sappia, a seconda delle opportunità e dei casi, ad operare ora l'un metodo e ora l'altro metodo. Ora sapere essere bestia, per così dire, e ora sapere essere uomo. Ecco, ora, siccome è abbastanza chiaro, diciamo, quello che Machiavelli qui vuole dire, è abbastanza chiaro e anche vero che il riferimento agli antichi scrittori, i quali copertamente hanno detto quello che lui dice scopertamente, è per così dire un modo esegetico per mettere se stesso in relazione all'antichità, come scopritore di quello che allora era stato visto, ma non detto, occorrerà, insomma, cercare di cogliere il punto centrale, è vero, di questo ragionamento. La necessità, cioè, che si passi, è vero, nell'ambito dell'azione politica, è vero, da un modo ad un altro, non secondo opportunità di carattere morale o di carattere religioso, ma secondo opportunità, sempre e soltanto di carattere politico, utilitaristico, quello che conviene è necessario fare, non quello che si deve, si deve fare. Ecco, dopodiché non è che Machiavelli sostenga che il principe sia un animale, Machiavelli sostiene che il principe è una natura talmente, talmente importante, ovvero nella sua Costituzione, da saper essere l'una cosa e l'altra, essendo da questo punto di vista nel riferimento alla politica, superiore sia all'animale che non sa combattere con le leggi, sia all'uomo che non sa combattere con la forza. Ecco, quindi questo personaggio che in un certo senso viene rappresentato nel maestro, è vero, di questa situazione, cioè nel centauro, il quale è contemporaneamente queste due cose e passa quindi dalla natura animale a quella umana senza nessuna difficoltà particolare, perché è fatto in modo da poter passare da l'una all'altra, sta a rappresentare per l'appunto questo, che qui si sta passando da un certo ordine di cose, che è quello insomma normalmente considerato umano o ferino, ad un ordine ulteriore, in cui l'umano e il ferino si scambiano continuamente di posto e si integrano secondo una regola che appunto non ha a che fare con quella che generalmente viene indicata dagli individui che giudicono in un certo modo, ma è quella della politica, che quindi ha questo carattere estremamente particolare. Ecco, qual è la radice, posso aggiungere questa considerazione, perché detto così potrebbe ancora sembrare un discorso descrittivo. Qual è la ragione per cui Machiavelli dice questo? Perché c'è evidentemente un nocciolo che non è stato ancora attinto in questa situazione ed è questa una delle ragioni per cui il principe si può leggere in tanti modi naturalmente, ma uno dei modi, forse il modo migliore di leggere il principe, è di cercare di leggerlo una volta, poi magari di rileggerlo una seconda e poi cercare di cogliere il centro che batte proprio nel cuore, insomma, di questo libro e di lì puoi passare per raccordare tutti gli elementi che lo compongono, i più normali e anche i più scandalosi. Ora, se noi prendiamo il diciottesimo capitolo e lo leggiamo da solo, abbiamo un'impressione naturalmente di stare leggendo un pezzo, diciamo così, di un'opera tragica, perché insomma non c'è dubbio che questo è un capitolo fortemente drammatico, fino al limite della tragicità. Ma non abbiamo ancora capito perché il personaggio che impersona, il personaggio che rappresenta, insomma, l'ideale politico di Machiavelli nell'ambito dei principali debba essere fatto in questo modo. La ragione, a mio modo di vedere, si trova in tutte quelle parti del principe in cui si parla della fortuna e soprattutto naturalmente nel capitolo che è dedicato a studiare il problema della fortuna, cioè il venticinquesimo. Lì c'è il nocciolo della questione. Il mondo è in fido, il mondo è vario, può accadere di tutto, assolutamente di tutto. E l'uomo si trova solo, il principe si trova solo, per forze che abbia adunate intorno a sé per fronteggiare le siglie della fortuna. La fortuna è sempre di gran lunga più forte, è vero, della virtù, perché questo è il punto di cui dobbiamo renderci conto. Non è vero affatto quello che si è detto per anni, 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 celebrando uno stereotipo umanistico che in Machiavelli non ha la mia, cioè che l'uomo è il padrone della fortuna, il signore della sorte. Non è vero affatto. L'uomo è la vittima della fortuna, è lo schiavo della sorte, è quello che vive sempre in riferimento a situazioni che lo possono travolgere in ogni momento e di conseguenza tutti i mezzi che l'uomo ha a disposizione per questa lotta, che è una lotta disperata per la sopravvivenza, sono naturalmente mezzi leciti. Quando in questo capitolo Machiavelli dice faccia, lui dice facci, naturalmente la maniera antica, il principe di vincere, i mezzi saranno giudicati onorevoli, perché si guarda al fine, perché si guarda al fine, il fine è vincere, è sopravvivere, è vero, agli assalti della fortuna. Ecco, Machiavelli dice la cosa fondamentale, tutto questo è vero, è subordinato ad un potere che è molto più forte di quello dell'uomo, il quale è autorizzato, per così dire, dalla precarietà in cui la fortuna lo mette, ad usare ogni mezzo, è vero, per poter fare che cosa? Per poter sopravvivere. E allora naturalmente è chiaro che la frase il fine giustifici di mezzi è una banalissima semplificazione e volgarizzazione del pensiero di Machiavelli. Machiavelli non parla affatto di giustificazione del fine, dice che il mezzo sarà giudicato onorevole se l'uomo sarà riuscito a sopravvivere alla sorte, è vero che lo sfida, è vero continuamente. A me pare che questo sia il nocciolo, insomma, ecco della questione e naturalmente anche in questo famoso passo è presente questo concetto.